Eccoci con il 4 di punta junior della Rolo che ha vinto questa regata nazionale a Corgeno. Iniziamo da Corazza e chiediamogli un commento su questa regata. Allora, devo dire che pensavo che andasse meglio, perché abbiamo avuto un po' non eravamo tanto assieme. Poi c'era chi ha appena tornato alle vacanze, siamo usciti anche poco. Però tutto sommato in chiusura siamo riusciti ad andare via, facendo fatica però. C'è qualcosa da migliorare quindi? Sicuramente è l'assieme, possiamo migliorare anche allenandoci più e di più, uscendo più insieme e vedremo come andrà. I punti di forza invece di questa barca? Boh, ci troviamo bene comunque tutti assieme, andiamo d'accordo comunque. Campionati italiani, un obiettivo molto importante per voi. Una Rolo che in questa gara nazionale sta veramente brillando. Prima i 4 successi femminili, ora stanno venendo fuori i maschi. Sì, finalmente stiamo venendo fuori anche noi. Comunque anche il gruppo di Junior rispetto all'anno prima si è rinforzato, con anche questi tre. E quindi speriamo di raccogliere il più successo possibile. Mi fa una dedica? Ah, non lo so. Allora, ringrazio prima mio fratello Luca, perché mi ha fatto la dedica quando è andata alla CUP. E poi ringrazio tutti quelli che mi hanno sostenuto, a tutti. E ringrazio anche la canottieria Rolo che mi ha dato il permesso di venire da loro a provare queste barche. Grazie. Grazie.